Buongiorno Popolo Rossonero, buongiorno Popolo del Bandito, buon sabato 4 di maggio, vigilia di Mila Lecce, vigilia di partita con Sciopero del Tifo, sinceramente non sarà bello, non sarà bello essere là, San Siro così mi piace, San Siro deve trasmettere emozioni, deve trasmettere calore alla squadra, io penso sempre, poi si sarebbe potuto mettere qualche striscione, qualche cartello che mandasse il messaggio che poi la curva vuole far passare alla società, comunque questa è stata la scelta, non sarà sicuramente un bel pomeriggio e a prescindere dal risultato perché mancheranno le emozioni che ti dà San Siro, soprattutto quando sale il Tifo Rossonero, comunque oggi parla il mister e mi dispiace un po' per Pioli perché parlerà ma i pensieri saranno tutti a chi guiderà nella prossima stagione del Milan, abbiamo visto che ieri sera è emersa questa candidatura forte di Conseil Sao, vediamo se durerà o si finirà come le altre che sono emerse finora, adesso ne parliamo, parliamo di tutto, parliamo anche dei troll cartonati come avete visto in copertina perché è una cosa molto interessante che secondo me è un fenomeno un po' strano che va controllato anche quello e va studiato, un like al video, iscrivetevi perché sapete che più siamo meglio è e la campanella per le notifiche per ricevere i video. Allora prima di tutto mi dispiace tantissimo per Lopeteghi perché quello che gli sta succedendo non è bello, non è bello, anche i tifosi del West Ham adesso hanno cominciato con la petizione per il no Lopeteghi, ecco Lopeteghi può piacere o non piacere ma è un professionista, è un professionista che fa il suo lavoro e se una società lo sceglie avrà i suoi motivi, magari sbaglia, magari azzecca, però quello che adesso diventa che si fanno le petizioni per scegliere gli allenatori è un qualcosa che secondo me prende una deriva molto brutta, molto pericolosa anche per il mondo del calcio perché questo poi potrà valere per un giocatore, per un centravanti, insomma potrà valere per tutto. Denota sicuramente una deriva che non va bene, sono campagne d'odio che non vanno bene, a me dispiace molto per Lopeteghi, non si meritava sicuramente questo trattamento. Comunque, al di là del fatto che i tifosi abbiano il diritto di dire magari la società sbagliava scegliendolo Lopeteghi, questo è un discorso, ma andare a intaccare in questo modo la professione io lo ritengo veramente una deriva che è una delle tante derive pericolose che sta prendendo il calcio. Dicevamo è emersa la candidatura di Consessau, a mattinata sembrava più motta, alla sera più Consessau, anche grazie al… ecco vedo Mendes molto, meno secondo i giornali, molto presente nel mercato del Milan, prima con Lopeteghi, adesso con Consessau, vediamo, vedremo, oltre a portarci l'allenatore ci porterà magari anche qualche grande giocatore, speriamo, però chi lo sa che questa candidatura di Consessau dura oppure fa la fine delle altre? Io intanto sono andato a vedermi come gioca, Consessau gioca con un 4-4-2, però non il vecchio statico 4-4-2, ma un 4-4-2 che si trasforma in un 4-2-3-1 a seconda se sia in possesso o in non possesso, utilizza molto le sovrapposizioni dei terzini sulle ali, quindi ecco non vedremmo più magari i terzini venire dentro al campo, ma andare e sovrapporsi esternamente sugli esterni e gioca con una punta molto fisica, molto abile nel giocare anche spalle alla porta e nel dialogare con i compagni, che fa molto pressing, utilizza molto il pressing con praticamente la punta, il centrocampista che eventualmente sale e le due ali che cercano di bloccare le avanzate di iniziazione da parte degli esterni difensivi e avversari. A volte utilizza la costruzione a 3, a seconda se subisce il pressing o meno, se la squadra avversaria utilizza molto il pressing non disdegna anche il rilancio lungo del portiere come spesso ha fatto Mignon in questi anni. Tendenzialmente direi che in un'ipotetica campagna acquisti di Consessau, il centravanti potrebbe anche andare bene Zirze, perché comunque è uno che è abilissimo, anche spalle alla porta, è molto tecnico, dialoga con i compagni, quindi potrebbe anche andare bene, anche se diciamo gli attaccanti alla Gimenez anche o alla… così si potrebbe trovare… lui aveva Taremi ad esempio, ecco, con la tipologia di attaccanti va bene, va bene per il gioco di di Consessau, mentre il centrocampista dovrebbe avere fisico e soprattutto abilità nel difendere, perché quando il 4-4-2 diventa un 4-2-3-1, uno dei due centrocampisti deve assolutamente essere un giocatore bravo nella fase difensiva e soprattutto con fisico. Anche sugli esterni come lui preferisce, insomma, avere magari gente di gamba, ma gente un po' più fisica di quello che abbiamo adesso, soprattutto a destra. Quindi staremo a vedere se resiste questa candidatura, che Legatti sarà vero, perché lui non vuole proprio Consessau, ma vuole quell'altro portoghese a Morin, vediamo cosa succede oggi. Passiamo un attimo all'argomento della copertina, i troll, perché parlo dei troll? Perché sta succedendo una cosa strana. Innanzitutto devo dire che avete notato che questa storia dell'allenatore del Milan ha oscurato completamente il campionato dei cartonati, non ne parla più nessuno, si parla solo dell'allenatore del Milan. E' questo ragazzi, essere andati dopo, essere nella ruota di scorta comporta questo, è già finita la festa. Allora, perché parlo dei troll? Perché sapete cosa sono i troll? No, vi do la definizione. Allora, il troll è un soggetto che interagisce con gli altri tramite messaggi volutamente provocatori, irritanti, con il solo obiettivo di disturbare la comunicazione e causare nervosismo. Questo è il troll singolo. Poi ci sono i troll invece che si uniscono in gruppo, perché pagati. Ad esempio leggevo un'intervista di uno che si definiva un troll pagato da un grosso gruppo economico, ovviamente non ha fatto il nome, che raccontava di arrivare a guadagnare anche 4 mila Euro al mese facendo questo lavoro. Il troll di solito usa meme, immagini e gif per rispondere agli altri, soprattutto ai post, ben scritti e argomentati. Tende a ignorare l'evidenza e i fatti. Un troll non riconosce infatti i fatti che ne contraddicono il punto di vista, cioè non esiste la verità per il troll. Poi ci sono i troll, quelli che sono veri e propri organizzatori, si può dire così, amministratori di gruppi di discussione, forum e altri gruppi sulle reti social. Hanno benefit e gratificazioni personali. Ecco, io è a questo gruppo che vorrei porvi l'attenzione, perché ho notato negli ultimi giorni che quando c'è un… soprattutto… ma non facciamo i nomi dei soci, comunque… quando esce magari un post, una notizia, soprattutto sulla prescrittese cartonese, vado un po' a vedere i commenti, no? E ho trovato delle cose strane. Ad esempio, vi faccio un esempio di due notizie che sono uscite, due commenti che sono stati fatti ieri, due post, uno di… si chiama Andreb, parla di praticamente… mette una notizia in cui la FIGC dice che chi ha i debiti deve assolvere il pagamento dei debiti scaduti alla data del 28 febbraio 24 nei confronti di società affiliate a federazioni estere. Cioè fa un riferimento più ironico che altro, perché la notizia di per sé non vuol dire nulla, però ci mette di mezzo i debiti dell'Inter, no? Così, un po' a mo' di battuta. E sono andato a guardarmi i commenti. Ho scoperto una cosa stranissima che poi ha portato a pensare a questa cosa. Allora, innanzitutto il troll come lo si riconosce, no? Facciamo l'esempio di X. Il troll ha pochissimi follower, segue pochissime persone ed è seguito da pochissime persone, anche se magari è scritto da anni. E poi ha sempre quel tipo di intervento, no? Allora sono andato a vedere, questo è il post, quello che vi ho detto, che è stato fatto, il tweet, come volete chiamarlo. I commenti sotto. Giuseppe, 11 follower. Un troll. Forse sarebbe ora di finirla con tutti questi sospetti e preconcetti, pensiamo solo al calcio. Capite, no? Come la pensa. scorro e trovo Matteo, 22 follower. Matteo, 22 follower. Quindi altro troll. Ma signore, le risulta che l'Inter abbia debiti scaduti in data 28 febbraio? Mi dia delucidazione in merito, le attendo. Scorro, trovo Galfly con 26 follower. Quindi troll. Che risponde e dice, aspetta, aspetta, aspetta che ti dà le delucidazioni, no? Scorro, Vox neroazzurro, 29 follower, 29 troll. Lo scudetto più bello di sempre. Andiamo avanti. Sempre lo stesso tweet, eh? Sempre quello, eh? In serie. Andrea, 12 follower, 12. L'Inter ha debiti scaduti? Stessa linea. Michele G98, 60 follower? Troll. L'Inter non ha questo tipo di debiti. I debiti li azzanga al massimo. Questa è la classica risposta che ti danno se parli dei debiti dell'Inter. Ma andiamo avanti. Questo si chiama addirittura Marotta Ligia. Ha 57 follower. Pensate, iscritto dal 2012. Proprio questo è un troll proprio di quelli storici. Stai buono, risponde, stai buono. Pasquale Marino, 42 follower. 2011, iscritto dal 2011. Questo è un grandissimo troll. Debiti scaduti e non pagati ad una certa data. Rilassati e cerca di capire meglio. Quindi, bacchetta, chi ha osato avvicinare a questa notizia il nome dell'Inter. Sav, 30 follower, iscritto dal 2013. Io proverei a scrivere in italiano, dice. Quindi lo ridicolizza. Joker lo scherzoso, 39 follower, dal 2011. Cioè, non hai capito quello che c'è scritto? Prova a rileggere e usare la testa, anziché il fegato. Fegato, capito? Prova a rileggere, non capisci. Ricordate cosa dicevo? Tende a ridicolizzare. Mario Bianchi, 6 follower dal 2017. I debiti con Ronaldo. Ecco, tu parli dei debiti dell'Inter. Pensa ai debiti di Ronaldo. Er, perculator, 6 follower. Leggere e non capire. Non capisci, sei scemo. Stefano, 6 follower, giuro non sono io. 6 follower dal 2018. Forse, questo è un po' più rozzo. Malgrado il nome, è un po' più rozzo. Forse sono i miei debiti con tua madre, ma lei mi fa sempre credito. Stroncato proprio. 6 follower, non lo sai. Marco Orru, 36 follower dal 2011. Secondo me, siete stupidi, non c'è altra spiegazione. Ti dà proprio dello scemo. Perché il troll deve negare qualunque cosa l'evidenza, qualunque verità, la deve negare. Federizzo, 82, 25 follower. L'ha anche la Juve, tranquillo. Lì ha anche la Juve, tranquillo. Quindi, tranquillo, c'è debiti anche la Juve. E così via scorrendo, è sempre sotto lo stesso tweet. Abbiamo Deir Zoli, 77 follower. Conti dell'Inter sono a posto. Dito Inav, 42 follower. Pensa alle tue rogne. Marco Pirovano, 3 follower. Guarda che i debiti sono di Zang. Ignorante, capito? Fra Po, 5 follower. Eppure basterebbe aprire l'articolo, basterebbe leggere. Ti ridicolizza, Fra Po. Ma quanti ce n'è? Vado avanti. Jamma, 36 follower da 2012. Vi ho provati come carta igienica. Ah, perché adesso siamo passati a un altro tweet di Tutto Sport, che ha fatto Tutto Sport, riguardante il 20 maggio e la scadenza di Zang con Octree. E quindi qui parte proprio l'assalto. Abbiamo la vecchia carmiceria, 54 follower. La vostra ossessione e il nostro orgoglio. Jamma, 36 follower da 2012. Vi ho provato come carta igienica. Marco Pacioli, 22 follower da 2011. Impazzire. Andre Carr, 20 follower dal 2018. Anche oggi record negativo di vendite. Si ridicolizza a Tutto Sport. Michi, 49 follower. Impazzire. Marco, 11 follower dal 2021. Tic Tac. Chiudere prima. Voi scommettiamo. Ok. Qui abbiamo i repero. Questi sono i migliori di tutti. Abbiamo Giannero Azzurro. Un follower dal 2022. Un follower. Un follower. Questo proprio ha, ce l'ha scritto proprio qua, troll. Tic Tac per il fallimento di Tutto Sport. Capito? Tutto sport. Te l'ha detto Giannero Azzurro con un follower. E poi abbiamo lui, il re, Lorenzo Menghini. Zero follower. Tic Tac. Preso. Ah no, scusate. Presto fallirete e mi auguro andrete a dormire tutti sotto i punti. Lorenzo Menghini. Zero follower. Allora, perché ho fatto questa rassegna? Ho preso solo due tweet. Perché su ogni tweet che va a commentare una situazione dell'Inter, che riguarda Zang, o che riguarda i debiti, o che riguarda la situazione di Octree e via dicendo, su ogni post, notizia, tweet, quello che volete voi, sotto ci troverete una serie incredibile di questi commenti. sono tutti slegati tra di loro. Io non penso. Io non penso perché se pensiamo che esistono amministratori di gruppi di discussione, forum e altri gruppi sulle reti social, hanno benefit e gratificazioni personali. ecco, semplicemente per dire, quando leggete i commenti, fate attenzione, perché molti di quei commenti che leggete sono indirizzati proprio per indurre ad avere un'opinione piuttosto che un'altra. Oggi vedremo se la notizia di ConsilSao sarà una notizia da troll o una notizia vera. A dopo.